è il far west, è razzista, è fascista, nazista, egoista, populista mi vedo 38 serate speciali di Fazio a proposito, devo essere veloce perché stasera non potete perdervi la coppia magica da Fazio Renzi-Saviano che bello pagare il canone per Renzi e Saviano ma la democrazia è bella, anzi, più fanno così e prendono i sardi per scemi più i sardi reagiscono e pacatamente ma con coraggio domenica da Castelsardo e dalla Sardegna arriverà la miglior risposta a Fazio, a Renzi e a Saviano che è il voto e fortunatamente nel voto di domenica non ci sarà, a differenza di Sanremo la giuria truccata quindi votano i sardi e quindi non è che poi arriva il tizio di turno che cambia il voto ma questo per carità di Dio poi magari è bravo Mamute però non è... c'ho altri gusti preferisco Itazenda a Mamute se ne ho solo dei gusti, gusti